Indubbiamente i miei genitori hanno insegnato a me e ai miei fratelli ad entusiasmarci per le piccole cose e ad essere persone serene. Italievi Montalcini questo perché nonostante abbia vissuto in un periodo storico e sociale molto diverso dal nostro in cui il settore scientifico in particolare quello della medicina era dominato dalla sfera maschile lei ha saputo dimostrare come le donne potessero svolgere gli stessi lavori degli uomini arrivando agli stessi livelli di eccellenza. Samantha Cristoforetti per aver raggiunto le stelle anche se queste sembrano irraggiungibili e per aver anche dedicato la propria vita al progresso e alla scoperta rompendo insieme ai propri colleghi quelle barriere di genere cultura e provenienza. I miei genitori in quanto mia madre è un esempio di forza inesauribile mio padre è l'esempio di chi ama senza chiedere nulla in cambio. In generale ammiro molto chi riesce a realizzarsi attraverso il proprio impegno e la determinazione se penso al mio settore di studi però mi viene subito in mente Rita Levi Montalcini non solo per le sue innumerevoli scoperte ma anche perché rappresenta il modello di una donna molto forte infatti ha scelto di seguire la propria passione per la medicina in contrasto con il pregiudizio del tempo.